L'ex tentatrice di Temptation Island My Carandazzo è intervenuta a proposito dei rumors su lei e Mirko Brunetti. Nelle ultime ore, l'ex tentatrice dell'ultima edizione di Temptation Island My Carandazzo è intervenuta sui social a proposito dei rumors degli ultimi giorni riguardo un presunto avvicinamento tra lei e l'ex GFino Mirko Brunetti. Ricordiamo che Maika era stata fino a qualche giorno fa al centro dei riflettori per via del suo flirt con Lino Giuliano, il quale si era lasciato con l'ex fidanzata Alessia Pascarella durante il falò di confronto nel reality delle tentazioni. Lino e Maika, al termine del programma condotto da Filippo Bisciglia, si erano continuati a vedere per poi lasciarsi d'improvviso, suscitando reazioni contrastanti sul web. A distanza di qualche giorno, i due erano poi tornati insieme, e si erano anche mostrati insieme sui social. Ma dopo qualche giorno, Lino aveva comunicato ai fan che la sua frequentazione con Maika era giunta al termine. Invece Mirko Brunetti, nelle scorse settimane, aveva annunciato sui social la fine della sua storia con l'ex fidanzata Perla Batiero. Entrambi avevano ammesso che era stata una scelta difficile, ma la più giusta al momento per tutti e due. Temptation Island, Maika fa chiarezza sui rumors su di lei. Ma, in realtà, Maika Randazzo non è finita al centro dei gossip solo per via del presunto avvicinamento con Mirko Brunetti. Sempre nei giorni scorsi, sono emerse delle indiscrezioni che la vedevano vicina ad Alex e Persino a Raul, ex partecipanti dell'ultima edizione di T. Questo perché i tre insieme ad altre ex tentatrici avrebbero trascorso dei giorni di vacanza e relax in Sardegna. Per questi motivi, nelle ultime ore, l'ex tentatrice del reality delle tentazioni ha deciso di intervenire sui social per fare chiarezza sulle voci trapelate sul suo conto smentendo ogni cosa e rivelando di essere totalmente single. Ecco che cosa ha detto. Non avevo intenzione di intervenire riguardo ad alcune questioni che ritengo veramente futili, ma sono costretta a farlo poiché si sta superando ogni limite di immaginazione. In questi ultimi giorni secondo il gossip avrei iniziato una frequentazione con Alex. A seguire si sostiene che ci sia un flirt in corso anche con Raul. Tutto questo solo per la pubblicazione di alcune storie, i G che ci ritraggono insieme in vacanza. Lo dichiaro ora, una volta per tutte, non c'è nessun flirt e alcuna relazione con nessuno dei ragazzi. Dopo il programma si sono semplicemente creati dei bellissimi rapporti di amicizia e abbiamo serenamente passato qualche giorno in Sardegna tutti insieme. Siamo tutti felicemente single.